E ritorna il nostro amico biblista, padre Ernesto della Corte, nuovamente in conversazioni bibliche. Bentrovato, buona Pasqua della settimana padre Ernesto. Buona Pasqua della settimana a tutti quanti voi, ci avviamo verso l'inverno ormai. Eh sì, era ora, così dice il calendario. Allora, oggi emergono due stranieri, due figure di stranieri capaci di gratitudine, guariti non soltanto fuori, ma anche dentro. Beh, in realtà è uno solo, perché diciamo nella seconda lettura, c'è il primo nella prima lettura e il secondo nel testo del Vangelo. Ancora una volta direi che il Signore ci meraviglia, perché gli stranieri lontani, in Luca poi sempre così, i lontani si avvicinano, quelli che sono vicini in realtà poi si allontanano. Noi stiamo leggendo il capitolo 17 di Luca con l'indicazione sempre del viaggio. Mentre camminava verso Gerusalemme, egli attraversava la Samaria e la Galilea. Comincia così il testo del nostro Vangelo. E siamo nella terza e ultima parte del viaggio. Ormai siamo quasi a Gerusalemme. Gesù lungo la via annuncia il regno e la dimensione della salvezza. Luca ci presenta oggi Gesù come il Messia sofferente. È vero che è il discendente di Davide, però la sua regalità si riflette in tutti gli episodi. Poi vedremo il testo con Zaccheo più avanti. Cosa vuole sottolineare l'evangelista oggi? Che il viaggio verso Gerusalemme in realtà è una salita, anzi la chiamata ascensione, verso il Padre, verso quel compimento della sua missione e anche il cambiamento della sua presenza nella comunità. Dopo Pasqua con l'ascensione, Luca ci insegna che Gesù è presente nella forza dello Spirito. L'episodio di oggi potremmo intitolarlo l'episodio dei dieci lebrosi. Anche se di lebroso si parla spesso anche in Galilea al capitolo 5 e anche quando si risponde a Giovanni Battista. È indicativo anche il numero. Perché dieci? Dieci può ricordare la famosa pagina dell'intercessione di Abramo nel libro di Genesi al capitolo 18. È il numero necessario ancora oggi perché l'assemblea sinagogale si possa radunare. Ci vogliono dieci uomini, non contano le donne, per avere l'assemblea sinagogale. Forse Luca vuol far capire che quel dieci richiama una totalità. È l'umanità tutta a entrare nella comunità che Gesù ha formato e che sta formando. Chi è il lebroso in quel periodo e in quel contesto? Di fatti potremmo dire è un morto che cammina. È una persona di fatti morta perché è chiusa ogni possibile relazione, sia civile che religiosa, sia familiare che amicale. È un uomo isolato, un uomo respinto da tutti. Vive ma non vive. Si ferma a distanza. Si fermano a distanza a motivo di quello che diceva e imponeva la legge. Gesù maestro, abbi pietà di noi. È la preghiera che fanno questi dieci lebrosi. Più avanti la farà anche il cieco e poi la bella preghiera del malfattore sulla croce. Gesù ricordati di me. Molto bello. I lebrosi chiedono misericordia. Molto bello. Gesù abbi pietà di noi. Abbi misericordia di noi. Lo farà anche il cieco. Esattamente così. Diventerà quella che ancora oggi i monaci dell'Oriente chiamano la preghiera del cuore. Signore nostro Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. E Gesù richiama la legge. Il libro del Levitico, al capitolo 14, e gli rimanda ai sacerdoti. Perché i sacerdoti erano deputati sia a discernere la malattia, sia alla guarigione. Quindi non c'è altro segno. Gesù non fa altro. Li rimanda. Obediente alla legge. Che cosa succede di straordinario? Mentre i dieci si allontanano, si accorgono di essere stati mondati dall'obbedienza a quella sua parola. Quindi è l'obbedienza alla parola che li ha guariti. Uno di loro, ecco la sorpresa ancora maggiore, è un samaritano. Il samaritano è nemico dei giudei. E' considerato uno scismatico, è una persona che non ha considerazioni presso i giudei. Si accorge anche lui la guarigione, ma rispetto agli altri nove, ritorna un viaggio di andata e di ritorno. Potremmo chiamarlo il viaggio della conversione. Chi rappresenta questo samaritano lebroso? Tutti quelli che sono i veri discepoli. I veri discepoli sono quelli che chiedono misericordia a Gesù Cristo, ascoltano la sua parola e ritornano a glorificare Dio. Infatti quest'uomo si getta ai piedi del Cristo, quindi lo adora. Gli rende grazie l'Eucaristia, avendo accolto la salvezza che ha avuto in dono. Quindi è un uomo grato. Lui che è un doppiamente escluso, un po' perché è lebroso, ma è escluso anche perché è samaritano, riconosce la potenza di Gesù e la potenza della sua parola. Quindi è veramente interessante. Ecco perché tu diceva all'inizio, in realtà i pagani sono due. C'è anche Naaman, il Sido, un ministro del re siriano, quindi un pagano, che guarito dalla lebra grazie al profeta, ringrazia il Signore per la sua grandezza e per la sua maestà e promette di non fare più il culto idolato. Anzi, porta con sé la terra di quella terra che il Signore ha benedetto. E il segno della guarigione resta un segno che deve aprire alla fede. È un segno che porta alla fede. È una porta che si apre sulla fede. Quindi entrambe le letture celebrano la bellezza e l'importanza del ringraziamento. Quindi l'uomo, quando viene beneficato, deve aprirsi alla fede. Il segno, il miracolo, è sempre finalizzato a quello che è più importante, cioè la fede. E quando Gesù lo concede, lo congeda, definisce quello che lui ha fatto come fede. È un modo per cui il lettore deve comprendere che la fede non è ridotta solo a richiesta di aiuto. Tutte e dieci lebrose hanno avuto la parola e sono stati copriti. Ma la parola deve far scattare la fede e dunque anche l'adorazione, il ringraziamento. Quindi solo nella luce di Dio noi ci accorgiamo che Egli interviene e che ci offre una grandiosa salvezza, che è stata innanzitutto per noi il battesimo. Gli ebrei hanno attraversato il Mar Rosso, noi invece nel battesimo entriamo nella morte di Cristo e poi risorgiamo grazie a Lui. Perché noi siamo la stirpe legale, direbbe Pietro, siamo la Nazione Santa, il sacerdozio legale. Quindi proclamare le grandezze di Dio oggi, come ha fatto il ebroso, e ringraziarlo, significa diventare Chiesa. Questo è il nostro essere cristiani, la nostra identità. E resta la domanda finale. Molto bella quella domanda di Gesù. Ma non ne sono stati purificati dieci? Gli altri nove, dove sono? È una domanda con cui reagisce il Cristo, perché questo straniero, questo ebroso, salvato e guarito, è l'unico che è tornato. C'è una sorta di nota di ironia. Chi è escluso, chi è lontano, chi viene addirittura emarginato, doppiamente, perché ebroso e perché semanitano, è l'unico che torna, che confessa la sua fede, che crede nella parola che salva. Ecco perché è interessante questa fede che salva. Non importa a quale popolo uno appartiene, la fede è sempre fede nella parola, ed è anche quella fede che accende un ringraziamento profondo, nel profondo del cuore. Quindi non basta la liberazione dal male fisico, ma c'è una identità che viene, che emerge ed entra davvero nel profondo del nostro cuore. Ecco dunque la pagina meravigliosa che oggi Luca ci offre. Ecco qui che comprendiamo bene quanto sia più importante della salute la relazione con Gesù per salvarci. Sì, molto bene, hai detto bene. Ciò che salva è la relazione. La relazione noi la chiamiamo fede, che è un dono che viene dall'alto, che vuole un'accoglienza e vuole una risposta. E quindi è sempre relazionale. In principio c'è sempre la relazione, lo diciamo spesso nella nostra trasmissione. Esattamente è così. Ecco perché c'è anche il salmo di oggi, molto bello, che potremmo intonare così, in una traduzione del grande padre Davide Maria Turoldo. Intonate al Signore un canto nuovo, perché egli ha fatto ancora meraviglie, ha portato vittoria alla sua mano e il suo braccio invincibile è santo. Quindi è un Dio, il braccio indica la forza e quella forza è la forza della fede, la forza di credere che quella parola salva, non solo guarisce, salvare è molto di più che guarire. Anche gli altri nove sono stati guariti, ma non hanno accolto la salvezza. E qui proprio il fulcro. Grazie padre Ernesto per oggi, noi con questo messaggio andiamo avanti anche per la prossima settimana in attesa di ritrovarti. Io vi ringrazio, vi do una buona Pasqua della settimana e a fra otto giorni, l'ottavario sarà ancora Pasqua della settimana. Shalom. 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 Shalom.